Le parole affettuose, le strette di mano e i sorrisi del Papa valgono molto per le quattro ex prostitute, ora donne libere, che nelle scorse settimane hanno incontrato Francesco. L'occasione è stata la conferenza internazionale sul tema combattere il traffico di esseri umani, collaborazione tra chiese e forze dell'ordine. Un'iniziativa organizzata dalla conferenza episcopale d'Inghilterra e Galles alla quale hanno partecipato 20 capi di polizia di diverse nazioni. Ad oggi la tratta interessa quasi 2 milioni e mezzo di persone, un giro di affari pari a 32 miliardi di dollari l'anno. L'incontro, il secondo in Vaticano, è anche un gesto, ha detto il Papa, per gridare basta. La tratta di essere umani è una piaga, una piaga nel corpo dell'umanità contemporanea, una piaga nella carne di Cristo, è un delitto contro l'umanità. Il fatto di trovarci qui per unire i nostri sforzi significa che vogliamo che le strategie e le competenze siano accompagnate e rafforzate dalla compassione evangelica, dalla prossimità agli uomini e alle donne che sono vittime di questo crimine. Nel corso dell'incontro, seguito dalla conferenza stampa in Sala Stampa Vaticana, si è messo in luce quanto fatto in questi anni a Londra, dove la cooperazione tra Chiesa e Polizia ha dato i suoi frutti. Il cardinale Vincent Nichols, presidente della conferenza episcopale d'Inghilterra e Galles. Una delle maggiori forze della Chiesa cattolica nella lotta contro il traffico di esseri umani è la rete internazionale delle suore, in quanto le loro congregazioni religiose sono diffuse in tutto il mondo. Ne abbiamo avuto esempi a Londra, dove una donna è stata salvata dalla schiavitù e voleva tornare in un altro paese. Le suore che aiutavano la polizia metropolitana hanno semplicemente potuto telefonare al loro convento all'estero e una suora ha fatto 400 miglia per venire a prendere la donna e per riaccoglierla di nuovo nel suo paese. Questa forma di collaborazione non è così semplice, ma è qualcosa che la Chiesa cattolica deve offrire, soprattutto attraverso le sue religiose. Una collaborazione che diventa una vera e propria necessità se si guarda i numeri del fenomeno della tratta. In Nigeria, dove si vive questa piega sociale, la Chiesa è attiva, ma bisogna fare di più a livello culturale. Il cardinale John O'Nayekan, arcivescovo di Abuja. Solo un per cento di tutte le donne in schiavitù viene fuori. Vuol dire che ci sono il 99 per cento là che nessuno conosce, che soffrono silenziosamente e non escono. Diversi modi, diversi livelli. Credo che ci vuole più che si parli di questo. Credo che parlare sarebbe più facile se la stigmatizzazione viene ridotta. Allora le persone possono riuscire a dire che ho sofferto per 5 anni questa cosa, per favore mi aiuti. Ma se uno pensa che facendolo vedere come prostituta vuol dire che tutti loro non escono fuori. Mi dispiace veramente per loro.